Ho fatto preparare dal cuoco di zia Frida questa danese alle prugne per sua madre, perché quando si viaggia l'intestino tende a bloccarsi. È un pensierino gentile, Francesca, ma mia madre non è il tipo giusto per un dolce alle prugne. Oh, lo diventerà quando lo assaggia e subito le farà effetto. Oh, ce l'ho io! Cosa? Ma dico, è pazza? Mi ha seguito fino qui da noi! Ma che razza di impudenza, mi vuole dire da quelle cliniche psichiatriche scappata? Lo vuol sapere lei chi era quella malta? Quella è mia madre.